Buonasera a tutti. Prima di dare inizio al webinar, alcune informazioni. Invito a tutti i docenti presenti di andare nelle descrizioni sotto la diretta e nei commenti per poter ricevere l'attestato. Gli alunni del triennio dell'istituto da Vinci devono invece andare in chat o nelle descrizioni per la firma della loro presenza. Per eventuali domande, dubbi, scrivete in chat. L'alunna Elena Di Geronimo della classe Quarta scientifica leggerà le domande. Saluto a tutti i dirigenti scolastici presenti, docenti, alunni, genitori, rappresentanti di varie associazioni, cittadini, emittenti che stanno partecipando al seminario online odierno, inerente proprio al tema dei lingue abusi linguistici, nel bullismo e cyberbullismo, le reti amicali, familiari scolastiche e virtuali. Passo subito la parola alla nostra dirigente scolastica Maria Stella Carparelli. Al termine illustrerò molto brevemente il curriculum dell'autorevole professoressa Immacolata Tempesta. A voi la dirigente Maria Stella Carparelli. Grazie professoressa Liuzzi, grazie per il suo impegno costante e buonasera a tutti quanti voi che siete collegati e che avete accolto questo nostro invito. Come anticipavo nel mio saluto alla professoressa Immacolata Tempesta, per la cui presenza siamo davvero molto grati, noi come istituto Da Vinci da tempo siamo impegnati sul tema della prevenzione dei comportamenti a rischio, in particolare nell'analisi dei comportamenti attigui o contigui alla forma di bullismo e di cyberbullismo. In questo mese in modo particolare, che è il mese dedicato appunto alla sicurezza e all'uso consapevole della rete, come istituto abbiamo programmato una serie di iniziative e da pochi giorni si è svolta infatti un altro importante incontro sulle fake news. Abbiamo lavorato addirittura, promosso un concorso interno che si concluderà a fine febbraio. Abbiamo deliberato come organismi collegiali un documento programmatico proprio di correttezza elettronica, di regole dell'uso dei dispositivi elettronici e oggi ci pregiamo della presenza della professoressa Immacolata Tempesta che affronterà forse uno dei temi più interessanti, poiché lingua e abusi linguistici del bullismo e del cyberbullismo. Ora sappiamo tutti quanto la parola e le parole abbiano un loro specifico peso. Non c'è bisogno di chiamare in causa il grande poeta Montale che diceva che le parole sono creatrici dei mondi e tantomeno come stiamo facendo in questi giorni potremmo addirittura chiamare in causa il sommo poeta Dante di cui a breve celebreremo i 700 anni della morte, ma tutti sappiamo un po' per studi e un po' perché lo viviamo sulla nostra esperienza quotidiana che le parole possono salvare o le parole possono determinare la morte anche interiore, oltre che a volte abbiamo visto casi, episodi di ahimè risaliti alla pubblica informazione per la gravità delle conseguenze che hanno prodotto. C'è addirittura, e qui mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, una bellissima canzone di un cantautore italiano, Samuele Persani, che parla appunto delle parole come sassi precisi, come addirittura guzzi e pronti anche a ferire appunto a morte, così come invece le parole possono in qualche modo essere gocce preziose invece che restano indelebilmente impresse in senso positivo. Scusate il telefono sottofondo, ho dimenticato di spegnerlo. Ora quindi ci aspettiamo molto da questo incontro, ci aspettiamo molto dalle belle parole che sicuramente la professoressa sarà spendere e saprà spendere per noi e con la consapevolezza appunto che la comunicazione giusta, la comunicazione corretta è per gli umani una fonte di benessere indicibile. Quindi vi ringrazio ancora per la presenza, mi accingo come voi a seguire i lavori di questo webinar. Grazie a tutti. Bene, allora vi presento un curriculum, la professoressa ha un curriculum vastissimo, cioè era proprio un libro stampato, però è una sintesi, sintesi più possibile quella che si è potuta fare. Un professore ordinario di sociolinguistica dell'italiano e di lingua italiana dal 2001 presso l'Università del Salento-Leccia. Dal 2012 al 2020 è stata componente del Senato accademico, della Commissione per il diritto allo studio e della Commissione per il fuoricorso. È delegata di Unisalento per Geo, Giovani Educazioni Orientamento. Nel 2012 è risultata fra i commissari sorteggiabili per l'ANS e nel 2019 è stata nominata commissario per l'ANS. L'AS ha fatto parte di commissioni per procedure comparative di prima fascia, seconda fascia per i ricercatori. Dal 2014 partecipa ai corsi di incedio della lingua italiana. È stata invitata a tenere relazione in numerosi convegni e seminari. Ha tenuto lezioni in diverse università straniere. È autrice di 200 pubblicazioni, fra cui 12 monografie in sede editoriali di eccellenza, in sede nazionale ed internazionali. Tra le pubblicazioni più recenti di linguistica e di sociologia e di bulzoni del 2014, l'italiano oltre il mare, contatti di lingua e nuove comunicazioni del 2018 cesati, il tempo verbale in italiano, stabilità e variazioni sempre di cesati nel 2018, lingua e immagine sociale, la spettacolarizzazione dell'improperio macerata del 2019, lingua e emozioni, immagini sociali, le nuove identità dell'italiano, RID 2020. Passo la parola all'egregia professoressa Immacolata Tempesta. Va bene, grazie. Mi sentite prima di tutto? Sì, professoressa, bene, grazie. Ok. Dunque, beh sì, anch'io faccio velocemente un po' di salute, un po' di ringraziamenti, mi fa piacere farli perché partecipo con piacere a questo incontro, e quindi ringrazio davvero col cuore chi ha organizzato questa possibilità di incontro sia con i colleghi docenti, sia con i ragazzi, perché è un pubblico… cioè mi piace pensare ai partecipanti a questo incontro come un gruppo eterogeneo, quindi interessi diversi per questo tema è così importante oggi nella comunicazione, ma anche nei comportamenti di alcune fasce generazionali, anche se in realtà noi diciamo fasce generazionali, poi vedremo che i bulli non hanno soltanto una collocazione giovanile, purtroppo esiste anche un mullismo di altro genere, è chiaro che noi punteremo su quello giovanile. Dunque ringrazio allora la scuola intanto, l'istituto che sta portando avanti tutte queste iniziative, la dirigente prima faceva cenno appunto all'altro incontro che c'è stato sulle fake news, che credo sia stato molto interessante, perché anche quello è un aspetto della comunicazione contemporanea che altera in qualche modo i valori proprio della comunicazione stessa, e poi una serie di iniziative altre che l'istituto sta portando avanti, quindi davvero ringrazio tutti, tutto l'istituto Leonardo Da Vinci di Fasano, perché ripeto, secondo me sono delle iniziative molto meritorie. Naturalmente ringrazio in particolare la dirigente, la professoressa Carparelli, e poi ringrazio in particolare, se mi posso permettere, l'istituto affettivo da Mimma Liuzzi, visto che si firma in questo modo. Grazie. Ma anche, devo dire, da ieri il tecnico, il dottor Locorotondo, che insomma mi ha un po' adiuvata in questo ingresso, in questa piattaforma, che è una piattaforma che io ho praticato poco, devo dire, perché abbiamo praticato sempre altri tipi di piattaforme. Comunque vabbè, non è un problema questo, anche questo fa parte della nostra comunicazione contemporanea. Quindi, tra l'altro, visto che siamo in dadda un po' tutti, questi sono mezzi ormai di vita quotidiana. Dunque, ringrazio naturalmente anche gli studenti, in particolare la signorina di Geronimo, e vorrei solo fare una piccolissima riflessione prima di iniziare l'incontro vero e proprio. Ringrazio naturalmente tutti quelli che sono sulla piattaforma, che ci stanno seguendo, che ci seguiranno, voglio dire che avranno interesse poi a seguire questi nostri dibattiti. Dicevo, ringrazio la signorina di Geronimo. Una piccola riflessione prima di iniziare. Credo che dedicheremo un po' di spazio, sarebbe utile, ma a me piacerebbe molto, dedicare un po' di spazio a qualche domanda, se ci sono dubbi, se c'è qualche domanda da fare in conclusione del nostro incontro. Io proporrei di dedicare, semmai, l'ultimo quarto d'ora, magari se c'è la professoressa Liuzzi, mi dà conferma di questo orientamento temporale. Già sono state elaborate delle domande. Sì, pensavo al tempo, non alle domande. Io pensavo al tempo, cioè dedicare un quarto d'ora a 20 minuti. Perché questo? Perché è chiaro che, a seconda della disposizione del tempo che abbiamo, si possono fare un numero di domande, si può fare un numero di domande diverse. Perché se abbiamo 20 minuti, voglio dire, si può pensare a certi tipi di intervento, altrimenti, voglio dire, vabbè, poi questo lo organizzate voi per quanto il vostro nonno. Ecco, coordinare, insomma, i tempi. Non vorrei che qualcuno avesse preparato delle domande e poi non ci fosse il tempo per, diciamo, per poter rispondere. Ecco, questo è importante. Quindi, mi raccomando, con i tempi cerchiamo di organizzarci in modo che nessuno rimanga deluso, diciamo, dalle sue aspettative di dubbio, di chiarimento di dubbio, di domande varie. Dopodiché, forse, se non ci sono interventi correlati a questa introduzione, io comincerei, diciamo, a parlare degli argomenti che sono nel programma. Possiamo iniziare subito. D'accordo. Io ho preparato delle diapositive che poi via via farò scorrere, diciamo, andando avanti nell'incontro. In realtà, le diapositive sono più di quelle che vedrete e se poi qualcuno è interessato vi metterete in contatto con la referente e vi farete mandare perché non c'è il tempo oggi di fare, diciamo, un'esposizione molto approfondita dell'argomento. Quindi facciamo, diciamo, l'esposizione che può essere fatta nei tempi previsti e dopodiché, se qualcuno vuole avere tutte le diapositive oltre a quelle che manderemo nell'incontro può fare richiesta, diciamo, alla scuola. Allora, bullismo e cyberbullismo sono due parole che ormai sono diventate ahimè, purtroppo, delle parole ricorrenti non solo nella comunicazione ma anche sempre più spesso nelle notizie che arrivano via via nelle stampe, nei social, in tutti i mezzi di comunicazione di cui oggi disponiamo e molto spesso sono se stesse, diciamo, prodotte da questi mezzi, sono, diciamo, l'effetto di questi mezzi che però, attenzione, io voglio subito prima chiarire un punto di partenza dopodiché è chiaro che mi sposterò sul concetto appunto di bullismo, di cyberbullismo, però giustamente voi nella locandina avete messo un bellissimo motto insieme per un internet migliore. C'è tutto quello che noi diremo non significa che dobbiamo demonizzare internet, noi dobbiamo demonizzare alcune usi che si fanno di internet, questo lo voglio chiarire subito, c'è tutto quello che noi diremo non significa che internet è il diavolo da cui bisogna fuggire, internet ha anche tanti vantaggi, ci offre tante possibilità, il fatto stesso che siamo collegati è dovuto proprio a queste possibilità di grande collegamenti online che senza internet non sarebbero possibili. Quindi voglio dire facciamo attenzione, quello che diremo bisogna sempre declinarlo nella direzione del cattivo uso di internet ed è quella la direzione in cui dobbiamo andare. Anche con i ragazzi quando parliamo di internet non dobbiamo mai mescolare gli effetti positivi e gli effetti negativi di questo strumento, dobbiamo sempre fare molta attenzione perché internet offre oltre agli svantaggi anche tantissimi vantaggi senza i quali forse oggi la comunicazione sarebbe molto più problematica. È chiaro che però oggi trattiamo invece questi usi particolari della comunicazione in generale perché il bullismo, il cyberbullismo non è fatto solo di lingua, è fatto anche di multimodalità, cioè vuol dire utilizza anche tantissimi altri strumenti della comunicazione. Noi sappiamo che la comunicazione quando noi parliamo parliamo ma nello stesso tempo comunichiamo anche con altri canali, quelli che appunto definiamo canali multimodali. Chi di noi, nessuno, credo, anzi nessuno sicuramente, quando parla non utilizza lo sguardo, non utilizza la mimica, non utilizza la postura, quello di farsi avanti e indietro con la schiena oppure non utilizza in qualche modo la gestualità. voi in questo momento non vedete le mie mani ma io le sto utilizzando. Quindi sono tutti canali multimodali che accompagnano la comunicazione linguistica e il bullismo, il cyberbullismo utilizzano come tutto il resto anche questi canali. Quindi noi oggi privilegieremo il canale linguistico, però facciamo attenzione perché questi due campi particolari di devianza comunicativa fanno riferimento anche ad altri elementi comunicativi che sempre supportano la lingua nella comunicazione. Ve ne ho citati alcuni perché ce ne sono anche altri, per esempio la prossemica, quello di avvicinarsi e di allontanarsi nel bullismo, per esempio negli attacchi di bullismo, c'è in qualche modo la violazione dello spazio privato dell'altro negli atti di minaccia quando il bullo si avvicina all'interlocutore e supera la linea di avvicinamento possibile all'esterno perché abbiamo intorno a noi una bolla prossemica che ci difende che in genere corrisponde ad un'alzata di braccio se allunghiamo il braccio e giriamo intorno a noi quello è lo spazio privato entro cui non permettiamo a nessuno di entrare. Bene, nel bullismo queste regole della comunicazione più elementare vengono tutte violate quindi non è soltanto un fatto di lingua. Faccio una piccola riflessione e poi vado avanti su questo problema del bullismo e del cyberbullismo. Intanto la mia voce si sente prima di tutto e poi è riuscita a seguirmi con il tono o rallento un po'? No, no, tutto bene. Ok, va bene. No, perché è importante voglio dire uno tende un po' a velocizzare la voce invece vorrei che si sentisse chiaramente. Quindi vi stavo dicendo facciamo una brevissima riflessione su questa multimodalità e sul canale linguistico. A me piacerebbe anche questo un po' come ho fatto la premessa prima di internet che non è tutto negativo cioè su internet bisogna ragionarci su bisogna riflettere non si può dire internet è sempre diabolico è sempre problematico non è così. come pure quando noi parliamo anche in questo caso del bullismo e del cyberbullismo dobbiamo fare attenzione perché si è diffusa l'idea credo molto negativa che basta parlare del bullismo basta parlare del cyberbullismo e abbiamo svolto la nostra azione pedagogica anche qui in realtà non è così perché il cyberbullismo che noi il 7 febbraio abbiamo dedicato la giornata al bullismo benissimo quello è l'iceberg diciamo di una situazione problematica che c'è ma non basta quindi noi dovremmo lavorare sul bullismo andando alle origini del bullismo andando alle origini del cyberbullismo spiegando ai ragazzi direttamente come si arriva ai comportamenti deleteri del bullismo se noi puntiamo direttamente il focus sul problema bullismo e ci ragioniamo per giorni con i ragazzi e non ci spostiamo sulle origini sulle cause sulle caratteristiche più remote diciamo di questo fenomeno difficilmente il ragazzo sarà curioso interessato a sviluppare un ragionamento su questi fenomeni si accontenterà di ascoltare e poi quando capiterà farà o l'osservatore passivo se non addirittura in qualche modo un diciamo un corresponsabile dell'atto di bullismo stesso quindi dobbiamo stare attenti dobbiamo entrare nell'ottica che il bullismo non è un fatto episodico non è soltanto la giornata del bullismo non è soltanto la giornata del cyberbullismo sono state emanate addirittura delle leggi che toccano questi problemi anche lì queste leggi bisognerebbe diffondere bisognerebbe che si conoscessero la legge del 2017 quella del numero 71 che parla proprio della tutela dei minori per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo sono tutti elementi che non dobbiamo considerare secondari quindi noi oggi parliamo della lingua del bullismo e degli abusi linguistici del bullismo e del cyberbullismo e sono molto importanti ma sono anche importanti tutti gli altri elementi quello di riprendere continuamente nei comportamenti nelle riflessioni ma anche interdisciplinare una competenza che il bambino sviluppa l'adolescente sviluppa anche a livello interdisciplinare perché questo problema riguarda tutte le discipline non riguarda soltanto l'italiano soltanto la sociologia o soltanto la religione o soltanto altre discipline specificamente riferite a questo problema allora la lingua la lingua bene allora vorrei dire che per seguire bene per impostare bene un discorso sul cyberbullismo bisognerebbe lavorare su due filoni su due direzioni a mio avviso molto importanti ecco sulle quali si fa didattica continua sulle quali si fa addestramento continuo e quindi non un giorno non due non tre ma bisogna ritornarci spesso su questi problemi anche perché sono problemi che come dicevo prima sono interdisciplinari quindi quando noi parliamo del cittadino la cittadinanza l'educazione alla cittadinanza e se non facciamo l'educazione alla cittadinanza parlando di questi problemi così gravi non faremo mai una creazione vera del cittadino italiano quindi vi dicevo andiamo a vedere queste due direzioni questi due fili rossi che dobbiamo seguire quando trattiamo il bullismo con i nostri ragazzi ma anche quando lo trattiamo con noi stessi per capirlo per approfondirlo intanto diciamo i punti di riferimento per creare questi percorsi sono due uno è il linguaggio giovanile quindi sapere che c'è esiste è codificato un sistema linguistico che si chiama linguaggio giovanile e che è tipico proprio della comunicazione dei giovani parlare di questo linguaggio giovanile vuol dire entrare aprire la porta del mondo giovanile quindi parlare in classe con competenza di che cosa sia il linguaggio giovanile vuol dire aprire la finestra ai ragazzi dire ci sono so che voi comunicate in questo modo so che utilizzate queste strategie linguistiche e dopodiché il primo passo verso invece l'alterazione di questi usi giovanili di tipo diciamo bullo è quasi fatta è quasi fatto quindi linguaggio giovanile conoscere il mondo della comunicazione giovanile da una parte questa sera vedremo qualche qualche riferimento dunque sì sto guardando ogni tanto guardo l'orologio perché naturalmente vorrei mantenermi nei tempi quindi linguaggio giovanile primo percorso primo punto di attenzione l'altro punto di attenzione su cui ci dobbiamo muovere è il concetto di immagine sociale io sono una sociolinguista quindi voglio dire mi muovo nel mio campo e però naturalmente vorrei che questi concetti diciamo a livello elementare fossero davvero uscissero davvero allo scoperto anche nell'educazione scolastica cosa vuol dire allora linguaggio giovanile ritorneremo perché vi ho detto quello è un percorso su cui bisogna lavorare l'altro percorso importante è quello dell'immagine sociale il bullismo nasce da un'alterazione del linguaggio giovanile da una parte e da un'alterazione dell'immagine sociale dall'altra sono questi due elementi che portano gravemente ad una alterazione della comunicazione tra pari possono portare anche ad alterazioni di comunicazione di altre generazioni ma in quel caso non si tratta più di linguaggio giovanile perché il linguaggio giovanile è un linguaggio transitorio la parola stessa giovanile vuol dire che riguarda semplicemente certe fasce generazionali che sappiamo vengono definite statisticamente come giovanile cioè esiste una categoria giovanile non è che la categoria giovanile non è una categoria impressionistica cioè ci sono degli istituti che in base a dei parametri per esempio il fatto di creare una propria famiglia per esempio il fatto di aver finito il ciclo di studi avere un proprio profilo professionale sono tutti elementi che portano all'uscita dalla condizione giovanile tanto che via via negli anni si è diventati giovani anche invecchiando cioè prima si era giovane fino a 25 anni poi si è diventati giovani a 30 poi si è diventato giovani fino a 35 e via dicendo tanto che adesso si parla dei giovani come appunto come legati a vita alla propria miglia di provenienza per cui rimarranno giovani in eterno se non entreranno poi nel mondo degli adulti quindi ci sono delle condizioni a cui il linguaggio giovanile è legato ed ha un carattere di transitorietà ci sono delle caratteristiche interessanti del linguaggio giovanile il linguaggio giovanile vi dicevo prima è una struttura è un sistema quindi ha degli elementi morfologici fonetici lessicali proprio tipici specifici del linguaggio giovanile cioè non è un mezz'ora di lezione e abbiamo concluso tutto il discorso sul linguaggio giovanile ecco perché la scuola secondo me dovrebbe attrezzarsi dovrebbe incuriosirsi non interessarsi anche di questi elementi che sono la base di alcuni fenomeni linguaggio giovanile di per sé è una varietà assolutamente positiva perché fa parte di quegli elementi di crescita degli adolescenti sappiamo che questa fascia generazionale è caratterizzata da alcuni elementi fisiologici diciamo di maturazione tra questi elementi fisiologici di maturazione c'è anche quello della trasgressività della violazione delle regole degli adulti che se fatto entro i termini diciamo della legittimità fa parte del gioco di crescita di questi ragazzi diventa invece pericoloso quando esce da questi schemi diciamo di normalità ed entra nella violenza nell'aggressività diciamo in usi assolutamente di quello che viene chiamata tecnicamente la cosiddetta disgrazia rituale cioè creare conflitti creare opposizioni di tipo aggressivo di tipo violento quindi il linguaggio giovanile risponde a delle esigenze precise che sono quelle della ludicità cioè il linguaggio giovanile è ludico prima di tutto quindi serve per scherzare vedremo chi usa espressioni molto particolari serve per scherzare e una caratteristica di questo scherzo è proprio l'enfasi l'esagerazione del linguaggio giovanile e già questo ci sposta verso il bullismo perché se queste esagerazioni non vengono controllate la lingua poi arriva in campi semantici e inusi e distorti dalla comunicazione di routine enfatizzare drammatizzare usare espressioni quotidiane con funzioni diverse rispetto al quotidiano sono caratteristiche del linguaggio giovanile quindi utilizzo ludico del linguaggio giovanile e poi l'utilizzo identitario cioè il linguaggio giovanile si usa perché il giovane ha bisogno di creare gruppo ha bisogno di fare schiera anche questo è un elemento positivo di per sé che però può diventare negativo nel momento in cui viene utilizzato per aggredire gli altri perché si forma il gruppo del carnefice il carnefice non agisce mai da solo nel bullismo non è mai un individuo isolato non potrebbe fare niente l'individuo isolato quindi il bull ha bisogno del gruppo ha bisogno di creare il gruppo saranno osservatori passivi saranno spettatori saranno sostenitori ma c'è un gruppo dietro il bullo e così per la vittima la vittima molto spesso è isolata ma anche la vittima può avere dei sostenitori e quindi il lavoro di gruppo per il giovane è importante perché vi dicevo linguaggio giovanile per esempio è uno strumento identitario perché crea gruppo perché crea il team degli adolescenti e quindi il ragazzo si sente forte anche il più fragile creando il gruppo e creando in questo gruppo una sorta di dominanza assume una specie di potere diventa appunto il leader di quel gruppo pur essendo magari il più fragile di tutti gli altri perché poi di fatto vedremo il bullo non è altro che l'elemento più debole di tutta diciamo la catena aggressiva più debole di per sé e che però utilizza poi questa debolezza in modo sbagliato in modo errato quindi allora questi due percorsi da una parte abbiamo detto la lingua e dall'altra parte l'immagine sociale linguaggio giovanile caratteristiche del linguaggio giovanile e giusto così per avere un'idea di questo linguaggio giovanile di come si sviluppa perché poi andiamo sull'immagine sociale che è l'altro elemento importante che dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che agisce all'interno del comportamento giovanile ed è molto importante per esempio tra le espressioni che sono tipiche del linguaggio giovanile naturalmente sul linguaggio giovanile esistono studi infiniti voglio dire sto facendo una sintesi molto veloce dei concetti di base del linguaggio giovanile e naturalmente poi se ci sono domande lo possiamo approfondire sempre nei tempi previsti dal nostro incontro per esempio sono molte usate nel linguaggio giovanile delle estensioni semantiche per esempio i giovani dicono godo e usano il verbo godere per dire sono contento oppure usano la parola enorme per indicare semplicemente bello mi piace enormemente questo oggetto è enorme significa semplicemente fantastico bello smarronare significa scocciare ora smarronare vedete che è una parola naturalmente tabù perché fa riferimento ai famosi marroni diciamo di coprolalia normale tipica diciamo della lingua comune come pure ci sono delle risemantizzazioni per esempio bella tantissima bella significa ciao tantissima significa da solo ciao oppure per esempio rosso viene usato come un insulto vai via rosso questo rosso indica proprio un insulto oppure ufo significa sputo oppure ci sono spostamenti proprio di significato per esempio gasarsi significa darsi delle arie nonno significa noioso obsoleto autostrada significa ragazza piatta ragazza noiosa la pizza e lo schiaffo fagiano significa fesso oppure ci sono esagerazioni moltissime mi piace da dio no spacco tutto mi diverto follia come vedete sono usi particolari dei giovani che ripeto come ho detto prima se considerati usi ludici considerati usi identitari per fare gruppo positivo vanno bene quando invece diventano elementi per creare espressioni di attacco allora lì cominciano le deviazioni vere e proprie ci sono altri usi poi ripeto se qualcuno è interessato posso anche mandare queste qualcuna diciamo di queste indicazioni che vi sto dando ma il linguaggio giovanile è ricchissimo di queste espressioni che provengono tra l'altro anche da mondi non sempre positivi per esempio dalla droga vengono nomi come anfetaminico che significa semplicemente alterato oppure la parola acido la parola fresciare sono tutti i termini che vengono del linguaggio giovanile ho detto prima che esiste una bellissima letteratura sul linguaggio giovanile quindi parlare del bullismo bisogna avere anche contezza in qualche modo di questi poli di cui stiamo parlando l'altro polo importante come dicevo prima è quello delle immagini sociali l'immagine sociale l'immagine sociale il concetto di immagine sociale è importantissimo nel bullismo perché perché tutti gli attori sociali cioè ognuno di noi in pratica e quindi anche i giovani costruiscono una propria immagine sociale tutti noi costruiamo una nostra immagine sociale e questa immagine sociale che noi costruiamo nel corso del tempo già da quando siamo piccoli è un'immagine che poi viene approvata dall'esterno cioè approvata dalla comunità esterna e via via conservata nelle comunicazioni che facciamo cioè non è necessario che questa immagine sociale ogni volta debba essere confermata nel momento in cui noi comunichiamo l'immagine sociale che abbiamo costruito e che la comunità ha accettato risulta implicitamente confermata quindi la violazione dell'immagine sociale è un attacco una minaccia gravissima all'interno della comunicazione perché invece la regola di base la regola fisiologica della comunicazione è che l'immagine sociale che abbiamo costruito ogni volta che noi comunichiamo è data per approvata e quindi se io sono una docente accademica universitaria lo status di docente universitario non è necessario che io lo ripeto ogni volta perché mi è riconosciuto implicitamente non è necessario che ogni volta io ripercorra tutto il curriculum tutto quello che ho fatto bene questo gioco questo riconoscimento dell'immagine sociale si chiama tecnicamente gioco di faccia il gioco di faccia è una strategia comunicativa non è un gioco si chiama gioco ma in realtà è una vera e propria strategia comunicativa ed è una strategia internazionale che permette la sopravvivenza comunicativa senza il gioco di faccia senza il rispetto delle regole del gioco di faccia avremmo difficoltà a comunicare cosa vuol dire il gioco di faccia la faccia intendendo per faccia l'immagine sociale di cui vi parlavo prima il giovane ha costruito una sua immagine sociale perché dicevo prima che tutti gli attori sociali hanno un'immagine sociale noi siamo esseri sociali individui sociali quindi abbiamo degli elementi che offriamo agli altri e che gli altri approvano e in questo modo è possibile la relazione sociale stiamo parlando attenzione di immagine sociale perché qui non stiamo parlando di filosofia in cui noi vogliamo andare a scovare qual è l'io l'essenza dell'io della persona non stiamo parlando di questo stiamo parlando dell'immagine sociale che noi costruiamo e che gli altri approvano e che ci permette di relazionarci in modo continuativo in modo lineare con gli altri che cosa succede nel bullismo ora il gioco di faccia vi dicevo dicevo prima è una strategia interazionale basata su regole precise ogni volta che noi comunichiamo la regola essenziale di partenza che dobbiamo rispettare è che dobbiamo proteggere la nostra immagine sociale ma dobbiamo difendere anche quella degli altri questa è l'immagine sociale allora tornando ai nostri giovani tornando ai nostri adolescenti che cosa possiamo dire a proposito del bullismo e di questa immagine sociale che è importantissima per il bullismo e per il cyberbullismo possiamo dire che una volta che il giovane o l'adolescente sta costruendo un suo comportamento lineare una sua immagine sociale gli altri i suoi coetanei i suoi pari dovrebbero fare attenzione a rispettare questa immagine sociale dell'individuo dell'interlocutore a non violare l'immagine dell'altro perché violando l'immagine dell'altro si entra in quello che prima chiamavo tragedia rituale disgrazia rituale cioè vuol dire che il rito della comunicazione in cui rito significa il rispetto delle regole viene violato e in quel modo si crea conflitto non c'è più cooperazione ma si crea conflitto perché? perché si attacca si minaccia l'immagine sociale dell'altro e questo è il nocciolo del bullismo e su questo bisogna lavorare cioè bisogna creare nel giovane nell'adolescente la consapevolezza che non si tratta soltanto di un attacco di parole che non si tratta soltanto di un attacco di gesti un attacco di sguardi si tratta che stiamo distruggendo che sta distruggendo qualcosa qualche elemento dell'immagine sociale dell'altro la lingua è uno strumento con cui noi possiamo approvare rafforzare l'immagine sociale dell'altro ma possiamo anche distruggerla e l'italiano la lingua italiana che è una lingua molto creativa come sapete molto ricca perché noi abbiamo una delle lingue più ricche a livello del mondo ci permette di utilizzare tantissimi strumenti tantissime modalità sia per rafforzare l'immagine sociale dell'altro ma anche per distruggerla la lingua italiana permette ci dà una possibilità enorme di minaccia e di attacco dell'immagine sociale dell'altro ma ci dà anche una grande possibilità di rafforzare l'immagine sociale dell'altro i complimenti i saluti sono le attenuazioni degli ordini con cui la lingua italiana diminuisce la cosiddetta forza illogotoria di un atto linguistico per cui noi un giovane chiunque non dice direttamente ad un altro prendi quel bicchiere oppure dammi un bicchiere d'acqua ma dice per cortesia mi puoi dare un bicchiere d'acqua oppure addirittura dice ho sete semplicemente per dire per piacere mi puoi dare un bicchiere d'acqua perché tutto questo perché in quel modo la lingua ci permette di evitare la minaccia all'immagine sociale alla nostra immagine sociale perché qual è il percorso sociale di questo ragionamento è che se noi diamo un ordine diretto a qualcuno prendi un bicchiere d'acqua dammi quel bicchiere d'acqua l'altro può dire di no non te lo do non voglio allora in quel caso la negazione vuol dire chi sei tu che mi ordini di prendere un bicchiere d'acqua io non sono d'accordo e quindi una messa in discussione di quel potere che noi nel momento in cui diamo un ordine diretto presupponiamo di avere e quindi una violazione di alcuni elementi dell'immagine sociale la lingua italiana ci permette di fare questo studiamola perché non studiamo la lingua italiana da questo punto di vista perché quando parliamo di cortesia la giornata della cortesia della gentilezza è certo ma la gentilezza bisogna costruirla bisogna conoscerla bisogna sapere come si fa per farla la cortesia le regole della cortesia sono queste perché le regole della cortesia sono in qualche modo in opposizione alle regole del bullismo alle regole della violazione del gioco di faccia quindi nel gioco di faccia noi dobbiamo i ragazzi i giovani devono imparare a capire ci sono delle regole come dicevo prima ci sono delle procedure da seguire procedure linguistiche il complimento serve a rafforzare l'immagine dell'altro le scuse servono a rimediare una minaccia fatta all'altro oppure delle procedure di delle cosiddette procedure elusive evitare entrare nel privato dell'altro perché potrebbe creare conflitti potrebbe creare minaccia all'immagine sono tutte strategie sono tutte procedure linguistiche che permettono di mantenere di conservare il gioco di faccia di non entrare nella violazione di non entrare nella trasgressione e però ci può essere il conflitto ci può essere il conflitto certo ci sono il bullismo è appunto l'esemplificazione una delle esemplificazioni più gravi del conflitto del conflitto comunicativo che può arrivare addirittura al conflitto fisico perché dicevo prima se voi andate ad analizzare i comportamenti del bullo oltre alla lingua vi accorgerete che sono violate tutte le regole anche della comunicazione multimodale dicevo prima entrare nello spazio privato dell'interlocutore avvicinarsi all'altro per tentare di attaccarlo oppure guardarlo in modo molto diretto perché lo sguardo diretto è comunque ha un valore di minaccia all'inizio di questo incontro sono state presentate alcune emoticon perché le emoticon come sapete sono faccine quindi multimodalità faccine che comunicano stati d'animo emozioni scusate emozioni qualcosa di positivo o di negativo le emoticon sono dei prototipi di comportamento cioè vuol dire che sono costruite su espressioni che sono considerate universali le emoticon della paura è capita da tutto il mondo le emoticon della rabbia dell'aggressione se voi guardate quelle emoticon che ho fatto scorrere all'inizio abbiamo fatto scorrere all'inizio ho messo insieme una serie di emoticon che esprimono aggressività e che sono molto diffuse nel cyberbullismo in cui la comunicazione come sapete oltre ad essere linguistica è anche iconica e questa comunicazione iconica viene appunto soprattutto attraverso le emoticon quindi allora tornando a quello che dicevo prima l'immagine sociale l'immagine sociale è un concetto su cui dobbiamo lavorare se vogliamo che i ragazzi entrino in modo curioso in modo interessato nel loro comportamento perché dare ordini etici o ordini comportamentali diretti io temo che non sortisca a grandi effetti cioè se il ragazzo preso da questi elementi di evoluzione adolescenziale giovanile che sono assolutamente fisiologici non può accettare un'interferenza diretta sui suoi comportamenti nel momento in cui cominciamo a spiegargli che ci sono delle lunghe procedure delle procedure complesse di comunicazione probabilmente la curiosità lo avvicinerà ad un comportamento più corretto quindi allora linguaggio giovanile da una parte immagine sociale dell'altro e tuttavia il bullismo esiste esiste proprio perché forse ancora non l'abbiamo attaccato in modo giusto non l'abbiamo approcciato nel modo migliore possibile può darsi può darsi questa è una riflessione da sociolinguista è chiaro che io mi pongo diciamo di fronte a questo problema con gli strumenti che la disciplina offre per avvicinarsi e per cercare di risolvere questi problemi secondo me almeno per le sperimentazioni che abbiamo fatto e ne abbiamo fatto diverse in diverse scuole potrebbe essere utile in qualche modo a dare delle soluzioni o almeno ad avviare delle soluzioni su questi problemi che diventano sempre più gravi e davvero diventano sempre più gravi perché sappiamo che c'è l'altro giorno sul quotidiano di Puglia il 20 febbraio del 21 leggevo che praticamente c'è stato un sondaggio dell'Udicon cioè dell'Unione per la Difesa dei Consumatori in cui risultava che il 30% degli studenti salentini tra gli 11 e i 17 anni sono praticamente il 30% è stato vittima di atti di bullismo ho fatto un sondaggio naturalmente e il risultato è stato questo ma a parte questo esistono anche delle vere e proprie indagini anche da parte dell'Istat che ci dicono che il problema del bullismo da parte del cyberbullismo dall'altro è un problema in crescita i dati a cui faccio riferimento in realtà non sono recentissimi perché gli ultimissimi dati ancora non sono stati messi nel report sono stati messi a disposizione ma in modo ancora isolato ma quelli del 2014 ci dicono che in Italia stiamo parlando dell'Istat in Italia più del 50% gli intervistati tra gli 11 e i 17 anni in una fascia generazionale molto precisa nel momento in cui è stato intervistato questo 50% ha dichiarato di essere stato vittima nei 12 mesi precedenti di qualche episodio offensivo offensivo e violento soprattutto le ragazze che presentano una percentuale superiore di vittimizzazione rispetto ai ragazzi e soprattutto i ragazzi stranieri che presentano addirittura il 17% in più di quello riscontrato fra gli studenti italiani quindi ragazzi stranieri questi sono dati dell'Istat quindi sono dati che voi potete tranquillamente andare a vedere appunto su internet andando a controllare le finestre dell'Istat tra i ragazzi stranieri quelli più minacciati risultano i filippini seguiti poi dai cinesi che sono praticamente filippini e cinesi sono perché diciamo perché si spiega questa particolarità etnica perché filippini e cinesi sono quelli che appartengono a delle comunità molto chiuse e quindi sono particolarmente esposti alle minacce diciamo degli italiani o degli altri ragazzi in generale ritornando alla lingua dei bulli quindi agli abusi ai cosiddetti abusi linguistici intanto parliamo diciamo dello strumento linguistico riferito appunto all'utilizzo di espressioni che in qualche modo entrano nell'attacco nella minaccia dell'altro evitando tutti i sistemi di illusione perché dicevo prima che per evitare il conflitto è necessario utilizzare alcune strategie evitare di entrare nel privato non utilizzare disfemismi cioè vuol dire non hanno un valore negativo la lingua italiana dicevo prima è una lingua ricchissima da questo punto di vista un conto è dire tizio è morto oppure è deceduto il conto è dire tizio è crepato o addirittura possiamo dire ha tirato le cuoia cioè sono espressioni che via via sentono sempre più emotivamente caricate e sempre più diciamo strumenti di attacco nel gioco di faccia l'italiano presenta tantissimi strumenti per evitare diciamo questi per evitare oppure per aggravare la situazione comunicativa per esempio i nomi alterati se voi fate riflettete sull'utilizzo dei nomi alterati in italiano beh l'alterazione come sapete che è un'azione con i suffissi accio aczo perché è molto utilizzato anche questo suffisso con il suffisso one sono tutti nomi derivati che alterano il valore semantico di un aggettivo o di un sostantivo e anche quello diventa può diventare un utilizzo di elementi linguistici aggressivi come pure per esempio lo stesso uso degli allocuti negli allocuti vuol dire il riferimento degli elementi di cortesia all'altro rivolgersi all'altro con un allocutivo piuttosto che un altro bene allora se voi andate a leggere o se andiamo a leggere meglio ancora una bellissima pagina del Manzoni che è l'incontro fatela leggere ragazzi che è l'incontro tra Don Rodrigo e Fra Cristoforo sono due personaggi importanti Don Rodrigo e Fra Cristoforo sono due personaggi di potere ed è una pagina bellissima proprio per il bullismo proprio per l'uso aggressivo della lingua in cui voi partite dalla considerazione che tutti e due questi grandi protagonisti all'inizio rispettano il gioco di faccia tutti e due si rivolgono all'altro utilizzando un allocutivo di cortesia signoria illustrissima signoria illustrissima poi via via se voi andate a leggere quell'episodio via via l'allocutivo va verso il basso tanto alla fine Don Rodrigo caccia Fra Cristoforo dal suo castello attaccandolo proprio nella sua immagine sociale frate incappucciato lo chiama escemi di tra i piedi allora cosa vuol dire escemi di tra i piedi cioè dalla vostra dell'inizio si arriva al tu diretto che un superiore può rivolgere all'inferiore non il contrario proprio per le regole di cui vi parlavo prima e quindi Don Rodrigo che riscopre esplicita la sua dominanza cacciandolo malamente è una situazione di conflitto che ricalca tutto il percorso di crescendo dalle regole della cortesia fino alla regola della minaccia ed è interessante perché in quel brano si colgono anche tutti gli altri elementi multimodali e quindi lo sguardo e quindi le gambe e quindi le mani tutto quello che Don Rodrigo fa questo profanno in concomitanza con la comunicazione linguistica quello è un brano che permette di entrare nell'analisi del gioco linguistico quindi partire da la lingua la lingua italiana perché la lingua italiana è interessante studiarla da questo punto di vista cioè il bullismo come dicevamo prima è fatto prima di tutto di parole è fatto centralmente di parole anche il cyberbullismo anche se il cyberbullismo come sappiamo è molto diverso dal bullismo in qualche modo è meno pericoloso per altre cose è più pericoloso del bullismo vero e proprio è meno pericoloso perché perché non c'è l'attacco diretto l'attacco fisico diretto immediato mentre il bullismo vero e proprio può sfociare nell'attacco diretto nella minaccia fisica ma il cyberbullismo per esempio non è cronologicamente delimitato quindi vuol dire che agisce in continuazione fuori dal tempo non è geograficamente spazialmente delimitato quindi vuol dire che agisce fuori dallo spazio e quindi la violenza l'aggressività verbale ha una potenza superiore di molto superiore al bullismo reale al bullismo fisico al bullismo interazionale in presenza perché il bullismo interazionale in presenza è delimitato nel tempo e nello spazio il cyberbullismo invece no quindi agisce in continuazione e può portare a delle asfissie si chiamano comunicative che in alcuni casi sono considerate anche cause di suicidio il cyberbullismo da questo punto di vista è un ulteriore aggravamento del gioco di faccia dell'alterazione del gioco di faccia quali sono i campi semantici molto spesso utilizzati dai bulli perché come vi dicevo prima esistono in italiano in realtà sono internazionali è chiaro che la lingua italiana ha il suo serbatoio particolare esistono in lingua italiana i cosiddetti disfemismi e quegli elementi linguistici che sono particolarmente negativi in cui si altera si innalza la carica emotiva negativa prima dicevo crepare tirare le cuoia sono disfemismi in cui il morire diventa un'azione negativa mentre se noi diciamo è volato in cielo il morire è presentato come un'azione positiva bene allora nel bullismo i campi semantici che vengono spesso utilizzati per aggredire per attaccare sono la situazione economica sei povera non indossi abiti alla moda non indossi abiti firmati oppure la situazione familiare i tuoi genitori sono drogati sei stato adottato tuo padre ha uno spazzino oppure l'orientamento questo c'è la diapositiva non so se la state mostrando no non ancora sì vi dicevo quindi la situazione familiare l'orientamento sessuale l'identità di genere di sessualità per esempio gay lesbica e froge e checca è una femminuccia schiaccio oppure lei se la fa con tutti è verginello sono espressioni che attaccano l'immagine sociale dell'altro attaccano attaccano gravemente l'immagine sociale dell'altro la distruggono tutti questi campi semantici entrano nell'immagine sociale dell'altro e fanno fuoco sull'immagine sociale dell'altro l'aspetto fisico ciccione anoressico brufoloso giraffa nana oppure la religione musulmano ebreo cristiano oppure la razza prima abbiamo detto che particolarmente i ragazzi immigrati i bambini immigrati l'oggetto di bullismo nero immigrato straniero oppure il carattere le emozioni di un ragazzo secchione mongolo oppure l'intelligenza stupido scemo cretino imbecille idiota sono come vedete e come vedete una serie di disfemismi con cui in qualche modo un giovane un adolescente un bambino entra nel gioco di faccia e distrugge in qualche modo quello che l'altro sta costruendo faticosamente su se stesso questi comportamenti in qualche modo devianti anche su questa c'è la diapositiva se volete mostrarla questi comportamenti devianti si trovano come vi dicevo prima anche sul cyberbullismo quindi il cyberbullismo che abbiamo detto prima è fuori dal tempo è fuori dallo spazio quindi agisce in continuazione in ogni luogo attraverso questi nuovi strumenti che possediamo tutti e quindi anche i bambini anche gli adolescenti e sui pali non spesso si insiste come controllo di sicurezza come sapete che proprio alcuni giorni fa TikTok ha introdotto il controllo dell'età anagrafica dell'utente e però anche lì poi le crone che ci dicono che i bambini dichiarano di avere 18 anni quando invece ne hanno 13 oppure ne hanno 12 perché TikTok sembra che non si possa utilizzare se si ha meno di 13 anni ma sono stati anche rilevati in molti casi in cui invece i bambini entrano comunque dichiarando di essere o 15 anni o 16 anni e lì sì il controllo della famiglia è importante è chiaro che il controllo dei genitori e dei fratelli degli stessi amici è importante ma è importante soprattutto l'educazione di base è importante soprattutto lavorare sull'educazione di questi bambini in modo che loro stessi non abbiano questa esigenza questa estrema necessità di entrare in questi siti che possono creare dei problemi e proprio sul cyberbullismo abbiamo tantissimi modi anche qui soprattutto il tipo linguistico per aggredire gli altri che gli adolescenti e i giovani utilizzano tantissimi modi che gli adolescenti e i giovani utilizzano per aggredire gli altri abbiamo per esempio questi messaggi che hanno un contenuto offensivo volgare quello che viene chiamato flaming oppure i messaggi dei gratori quello che viene chiamato down che serve a demolire la reputazione di una persona quella che prima chiamavamo immagine sociale i cosiddetti troll che sono dei messaggi che insinuano provocano sono tutte strategie sono tutte metodologie diffusissime del cyberbullismo oppure quello di diffondere immagini rubate con la violazione dell'account della vittima oppure quello di diffondere identità false oppure creare profili fittizi sono tutte come vedete sono tutti passi che portano a queste comunicazioni distorte che poi creano i presupposti purtroppo ahimè in alcuni casi anche di effetti molto disastrosi molto distruttivi oppure sembra strano ma è molto importante anche l'esclusione della vittima dal gruppo online quello che dicevamo prima il linguaggio giovanile che serve per creare il gruppo allora escludere un coetaneo escludere un pari un ragazzo di pari condizioni dal gruppo in cui lui vuole entrare anche quello è un elemento assolutamente di bullismo perché si isola la vittima il carnefice dicevamo prima che c'è un carnefice che è l'autore principale di queste situazioni e che però insisto non agisce mai da solo che in qualche modo crea l'isolamento l'emarginazione del destinatario dell'interlocutore oppure il cosiddetto il cosiddetto sondaggio online non so se siete mai esistono non esistono tantissimi se li cercate li trovate potete anche commentarli con i vostri ragazzi ci sono dei sondaggi che gli stessi ragazzi lanciano su online in cui non si chiede quali siano i meriti di un determinato ragazzo ma piuttosto si chiede di esprimere su un determinato ragazzo tutti i difetti possibili e anche qui si crea una cornice diciamo di distruzione di violazione dell'immagine sociale dell'altro tutto questo tutti questi elementi il ministero dell'interno che ha pubblicato un report nel 2016 portano in questo report il ministero dell'interno ha sottolineato il fatto che tutti questi elementi possono avvicinare possono annullare i confini tra il cyberbullismo da una parte e il cybercrime dall'altro la navigazione su internet diventa un vero e proprio crimine diventa una strumentalizzazione attraverso la lingua ma anche attraverso la multimodalità attenzione non dimentichiamoci che è molto importante diventa uno strumento di chiamiamolo omicidio omicidio internautico dell'altro perché può portare può provocare situazioni di autodistruzione o di distruzione della fascia sociale dell'immagine sociale dell'altro che può creare tantissimi problemi tantissime crisi nell'interlocutore è linguistico ma provoca effetti multidimensionali quindi il bullismo che parte dalla lingua molto spesso è realizzato con la lingua provoca poi degli effetti generali che vanno molto oltre la lingua mi interessano lo sviluppo cognitivo lo sviluppo psicologico lo sviluppo comunicativo dell'interlocutore in tutto questo naturalmente facciamo nel titolo avete trovato abbiamo inserito il riferimento all'ERT perché per trattare del bullismo per trattare della lingua del bullismo per trattare di quanto siano pesanti gli elementi comunicativi che vengono utilizzati nel bullismo perché prima di essere in minaccia fisica il bullismo è in minaccia verbale ed è in minaccia verbale per tutto quello che abbiamo detto prima cioè perché mette in gioco le distorsioni del linguaggio giovanile mette in gioco le distorsioni del gioco di faccia e sommando questi elementi di deviazione porta quasi meccanicamente ad una distruzione dell'interlocutore con atti che possono arrivare o allo scontro fisico diretto ma anche all'autodistruzione dell'altro che sono due effetti abbastanza diffusi degli atti di bullismo quindi allora quando noi parliamo di bullismo abbiamo bisogno di capire chi può entrare nella soluzione del bullismo e qui abbiamo le cosiddette reti le cosiddette reti perché nel discutere di presentare queste riflessioni sul bullismo dobbiamo tenere conto che il bullismo agisce attraverso le reti amicali e cioè vuol dire attraverso il gruppo dei pari che è importantissimo e quindi anche nel gruppo dei pari bisogna agire per poter risolvere il bullismo bisogna partire altrimenti non riusciamo in qualche modo a far pensare a far riflettere i giovani su che cosa sui loro comportamenti sbagliati poi ci sono le reti familiari anche le reti familiari sono importanti per poter entrare nella soluzione del bullismo le reti familiari uno vuol dire soltanto controllo dei social le reti familiari vuol dire anche in qualche modo cercare di capire le situazioni che si stanno creando che si stanno in qualche modo producendo sia per i propri familiari ma anche per chi è fuori dalla famiglia come sta entrando nella famiglia che cosa sta portando all'interno della famiglia all'interno degli adolescenti presenti nella famiglia così pure le reti scolastiche ora le reti scolastiche dicevo prima hanno bisogno di riscoprire questo approccio multidimensionale del bullismo quindi non soltanto celebrare o pensare al bullismo in determinate situazioni cercare di fare un approccio multidimensionale cercare di fare un approccio con analisi linguistiche ma anche analisi multimodali con video con locandine e poi ci sono le piazze virtuali le piazze virtuali che devono essere frequentate con delle regole queste regole siamo noi la famiglia la scuola che deve diffonderle quindi non possiamo limitarci soltanto a degli approcci casuali dobbiamo farlo in continuazione dobbiamo stabilire con i ragazzi un approccio che li incuriosisca che sviluppi i loro interessi che faccia capire loro le basi del loro comportamento non soltanto dire non dovete farlo non si può fare perché un approccio diretto di divieto non sortisce almeno questo è il risultato che abbiamo avuto fino ad oggi non sortisce una soluzione immediata per chiudere in modo poi da lasciare tempo anche alle domande in alcuni lavori che stiamo conducendo in alcune scuole sul bullismo abbiamo sviluppato un questionario un questionario che è semplicemente non solamente il questionario ha un senso soltanto se rientra nel percorso di cui parlavamo prima cioè fare un approccio multidimensionale al tema del bullismo quindi un approccio linguistico ultimodale comportamentale sociale di come parlavo prima di specificazione delle varietà giovanili di comportamento e di lingua ebbene all'interno di questo percorso abbiamo anche realizzato un questionario che serve in qualche modo anche questo a far riflettere i nostri ragazzi e l'abbiamo somministrato in diverse scuole lo stiamo anche somministrando in alcune scuole continuiamo a somministrare in alcune scuole con cui stiamo lavorando soprattutto in occasione di tesi di laurea che abbiamo condotto in collaborazione con queste scuole se qualcuno è curioso o interessato a vederlo o a diciamo a prendere atto di questo questionario posso inviarlo perché nel questionario sono riportate tutte le possibili variazioni diciamo di comportamento ricevuto oppure esito da parte dell'informatore in riferimento proprio al bullismo quindi è uno strumento che abbiamo codificato e che utilizziamo qualche volta nelle nostre ricerche collaborazione con le scuole proprio per entrare sia a stabilire un percorso di in qualche modo di scontro con la classe su questi temi ma anche a livello informativo per conoscere la situazione dei giovani o degli studenti della classe in riferimento proprio a queste situazioni di bullismo e di cyberbullismo io mi fermerei qui perché poi naturalmente se ci sono domande riprendiamo alcuni di questi discorsi che abbiamo fatto e se volete poi come vi dicevo prima il materiale fate richiesta alla scuola e ve lo manderemo Ego Elena domanda vai va bene grazie professoressa chiunque desideri rivolgere una domanda alla professoressa può inserirla alla destra sui commenti in modo che venga letta qui in diretta bene allora porto con la prima domanda ci sono differenze tra il linguaggio dei bulli e dei cyberbulli se sì quali? sì sì forse diciamo la risposta era già nell'incontro che abbiamo fatto sì stiamo parlando di linguaggio e quindi il quadro generale è sempre quello del linguaggio giovanile non dimentichiamolo perché parliamo in questo nostro incontro del bullismo giovanile questo non significa che non esiste il bullismo degli adulti ma si svolge in un quadro diciamo in un contesto socio-culturale leggermente diverso e tuttavia anche il bullismo degli adulti risponde ad elementi di azione che provengono sempre dalla lingua da una parte e dall'immagine sociale dall'altra se mettiamo in confronto il cyberbullismo e il bullismo diciamo in presenza sì ci sono delle differenze legate al canale legate allo strumento diciamo di aggressione è chiaro che nel bullismo in presenza come vi dicevo come vi dicevo prima la possibilità di arrivare ad una minaccia fisica rende l'attacco più immediato rende l'attacco diciamo ma anche emotivamente più carico mentre il cyberbullismo lavora molto prima nelle procedure di attacco del cyberbullismo vi ho detto che ci sono delle procedure di allusione il carattere allusivo molto spesso predomina perché non c'è bisogno di fare nel cyberbullismo le espressioni non sono cariche emotivamente quanto quelle del bullismo in presenza molto spesso lavorano sul logorio più lento sul logorio linguistico più diciamo più diluito e soprattutto più ripetuto perché mentre il bullismo finisce in un episodio e poi magari si ripete in un episodio successivo nel tempo invece il cyberbullismo ha una continuazione cioè non ha un'interruzione può essere ripetuto all'infinito e in qualsiasi spazio nella cameretta nel campo da tennis per strada quindi tutto questo incide sull'uso della lingua perché rende la lingua del cyberbullismo più insinuante rispetto a quella del bullismo diretto quindi le espressioni linguistiche che pure hanno sempre come obiettivo quello della distruzione dell'immagine sociale dell'altro però utilizzano connotazioni e cariche emotive fortemente differenziate tra di loro anche se alla base sono comunque sempre distruttive si tratta sempre di disfemismi si tratta sempre comunque di attacchi fatti attraverso la lingua e soprattutto nei campi semantici di cui parlavamo prima cioè i campi semantici sono assolutamente uguali sono gli strumenti linguistici che vengono in qualche modo utilizzati in modo parzialmente diverso lei ha anche parlato di conflitto comunicativo e anche fisico la società può influire il modo in cui i ragazzi lo affrontano eh sì questa domanda è bellissima che mi avete fatto meriterebbe un altro incontro ringrazio chi l'ha prodotta sì sì ahimè sì purtroppo è così non so se avete ascoltato l'omelia oggi del dei due giovani che sono caduti nel Congo e il il prelato che ufficiava la messa che diceva messa nell'omelia giustamente ha sottolineato il fatto che quella violenza nasce da una violenza generale che caratterizza la nostra società io credo che sia vero io credo che sia vero perché anche qui dicevo meriterebbe un altro incontro poi se siete curiosi ne riparliamo con i ragazzi perché a me mi interessa il discorso sui ragazzi cioè quello di capire come sono loro interessati a questi problemi io ho pubblicato un testo che si chiama la spettacolarizzazione dell'insulto quando voi ascoltate dibattiti politici oggi il dibattito politico fa audience quando al suo interno ci sono conflitti quando al suo interno ci sono insulti quando al suo interno ci sono opposizioni fatti con attacchi continui immagini sociali dell'altro e questi giochi sono voluti sono cercati sono diffusi volutamente dagli uffici stampa dai mezzi di comunicazione cioè i personaggi vengono pagati per andare a lanciare insulti per andare a scambiarsi improperi allora voglio dire questo significa creare clima favorevole ad atti di bullismo perché in qualche modo autorizziamo la violenza linguistica quindi queste disgrazie non le troviamo soltanto nell'insulto degli adolescenti sono diventate una sorta di ripetizione che ritroviamo ogni momento nella comunicazione pubblica e questo è assolutamente frutto di violenza diretta prima di tutto ma anche di crescita in qualche modo deviata da parte dei più giovani che considerano una routine quella di trasgredire le regole del gioco di faccia sì quindi sono assolutamente convinta che anche la nostra comunità dovrebbe imparare a comportarsi la nostra comunità nel senso degli adulti dei media del contesto culturale generale dovrebbe cominciare a riflettere anche su questi usi distorti della comunicazione come la spettacolarizzazione dell'insulto molti spettacoli adesso vengono costruiti sull'insulto molti spettacoli che i giovani seguono molto sono costruiti sull'insulto e quindi è chiaro che parte così un'educazione che svilisce la carica negativa dell'insulto lo rende quasi una routine cotidiana il che non è assolutamente positivo prego la non percezione della reale pericolosità della rete e della navigazione in web passa anche attraverso forme di linguaggio della vita della vita comune attraverso il linguaggio della vita comune ah della vita comune ho capito bene sì ha capito bene ma su questo non sono veramente d'accordo perché la vita comune vi dicevo prima c'è la regola universale studiata molto bene da Goffman e che nella comunicazione di routine intendo comunicazione di routine la vita comune nella comunicazione di routine in realtà si implicitamente si dà per scontato che l'immagine sociale che abbiamo costruito debba essere rispettata quindi la regola della copertura della propria faccia del rispetto della faccia degli altri è una regola di routine senza la quale non si va da nessuna parte e quindi se intendiamo per vita comune la vita la comunicazione intendendo per vita la comunicazione perché stiamo parlando di comunicazione è chiaro la vita si intende questo in questo caso se intendiamo la comunicazione di routine come quella comune quella che dovrebbe essere più diffusa io credo che la maggior parte delle comunicazioni abbiano il rispetto di queste regole abbiano il rispetto di queste regole quello che dicevo prima la spettacolarizzazione dell'insulto sono delle alterazioni della comunicazione perché perché il mercato l'audience chiede quel tipo di spettacolo e può influire sul comportamento degli altri ma questo non significa che tutti ci comportiamo in quel modo assolutamente no assolutamente no non sono d'accordo quindi nella vita comune io credo che prevalga assolutamente il gioco di faccia corretto cioè che tutti noi siamo attenti quando comunichiamo quando interagiamo quando stabiliamo delle relazioni con gli altri a rispettare diciamo le immagini dell'altro e a proteggere anche la nostra credo che tutti noi lo facciamo forse è il caso che come dicevo e come ripetuto tante volte si cominci a puntare il dito su queste strategie che probabilmente sfuggono ai più giovani e invece sono magistralmente e negativamente guidate dai grandi media che come dicevo siccome al pubblico piace sentire litigare piace sentire l'insulto piace sentire alcuni personaggi che in trasmissione creano conflitti fasulli che invece il telespettatore considera veri e così però si diffonde l'educazione alla violenza ma non credo che tutti siamo fatti in quel modo nella vita comune no non credo che sia la vita comune che alteri questo è la nostra cultura che ha preso un po' questa direzione di alterazione ma se ci ripensiamo tutti soprattutto i giovani riusciremo a cambiarla riusciremo a tornare al rispetto diciamo reciproco prego questa domanda è posta dal professor Gitano il linguaggio che i giovani usano nella vita reale rappresenta la colpa del degrado sociale ed educativo oppure tale forma di linguaggio è la conseguenza di un uso superficiale dei media della televisione e dei telefonini in particolare insomma tutte e due le cose però attenzione prima dicevo internet non è il diavolo bisogna recuperarlo per le cose positive il linguaggio giovanile non è negativo di per sé il linguaggio giovanile è un linguaggio alterato è un linguaggio trasgressivo è un linguaggio che viola molto spesso le regole diciamo della buona comunicazione ma molto sempre e nella maggior parte dei casi si mantiene nei limiti della accettazione della diciamo della non aggressività e invece diventa negativo quando supera questi limiti e diventa strumento di attacco verso l'altro quando conserva il suo carattere ludico il suo carattere identitario assolutamente il linguaggio giovanile serve per crescere nel momento in cui però diventa strumento eccetera eccetera certo è chiaro che i social e i media soprattutto i social e i media meno credo il comportamento comune credo meno il comportamento comune attraversano i momenti di di convinzione mediatica negativa cioè quello di educare il pubblico a considerare mali comportamenti che invece non sono normali per il rispetto dell'altro allora in quel caso il linguaggio giovanile diventa uno strumento di aggressione uno strumento di di bullismo ma anche qui ripeto non credo che il comportamento generale sia questo credo che però ci siano delle deviazioni dovute al mercato ecco io che sta facendo che sta facendo non basta dirgli non lo fa deve dargli conto deve spiegargli che cosa sta succedendo perché altrimenti si diventa diciamo burattini in mano ad un mercato televisivo dei social che diffonde questo modello di di bullo perché piace tanto tanto al pubblico piace tanto al telespettatore credo che questo sia un rischio grosso ma tra il telespettatore e l'uomo comune non c'è una sovrapposizione omatica non tutti gli uomini comuni sono telespettatori passivi e telespettatori ricettivi di questi messaggi di violenza per fortuna ma questi messaggi di violenza arrivano in continuazione e lì dovremmo cominciare a porre rimedio diciamo a questa cultura della violenza lanciata dai media oggi si parla di linguaggio d'odio che sempre più si manifesta in rete si dice che i protagonisti soffrono di mancanza di inclusione le donne come lei ha accennato sono tra le più colpite dal fenomeno della vittimizzazione e compaiono prima nel maropetro d'odio ricevendo maggiori messaggi offensivi rispetto agli uomini dunque si parlerebbe meno di inclusione e più di sessismo in tal caso beh sì sì certo nel bullismo certo esiste il sessismo non esiste l'inclusione stiamo parlando di bullismo e quindi è chiaro che le ragazze subiscono tutti gli attacchi legati al sessismo legati alla parità di genere nel bullismo non c'è e i dati ce lo dicono chiaramente cioè le ragazze sono molto più colpite sono molto più vittime del bullismo rispetto ai ragazzi che hanno anche loro una quota molto alta e di diciamo di coinvolgimento ma la parità di genere nel bullismo non c'è è chiaro che il bullismo altera anche questa immagine sociale della donna di pari grado dell'uomo che si sta costruendo con tanta fatica ed è anche un gioco facile quello di attaccare una giovane una bambina un adolescente in quanto femminuccia tra l'altro ricordiamoci che questo concetto dei due generi viene utilizzato molto anche per attaccare diciamo la categoria del né maschio né femmina per cui verginello femminuccia gay froccio sono tutti epiteti molto diffusi nel bullismo che vengono utilizzati anche come elementi anche verso un ragazzo che dichiaratamente non è o non vuole o non è diciamo appartenente ad altre categorie quindi voglio dire il sessismo proprio come categoria abbiamo visto nei campi semantici è un elemento molto forte nel bullismo e quindi in modo quasi meccanico le donne subiscono più attacchi rispetto agli uomini perché culturalmente sono considerate quelle che portano più etichette rispetto agli uomini quindi sono più facili da attaccare sono più facili in qualche modo da aggredire sì la risposta è assolutamente sì che è vero il fenomeno del cyberbullismo secondo lei deve essere affrontato da un punto di vista sociologico culturale oppure soltanto da un punto di vista repressivo beh vabbè insomma credo che la risposta sia abbastanza chiara no è chiaro che quello che dicevo prima reprimere sì la repressione voglio dire anche è un metodo di educazione ma in questo caso i dati ci dicono che non ha dato grandi risultati in realtà nell'educazione la pedagogia ci insegna che la repressione diretta non dà mai grandi risultati e che i problemi non sono così facili da risolvere cioè chi fa psicologia chi fa psicolinguistica sa bene che qualsiasi problema di tipo psicolinguistico non va mai affrontato con la repressione diretta perché questo provoca soltanto aggravamento e quindi è chiaro che l'alternativa è la prima non la seconda la prima significa stabilire come ho ripetuto più volte nell'incontro stabilire con i giovani con il gruppo diciamo dei giovani degli adolescenti dei bambini un'interlocuzione continua un'interlocuzione di riflessione di consapevolezza ecco la parola magica è proprio questa la consapevolezza e soprattutto la curiosità educativa perché questi sono diciamo sono concetti che stanno alla base del cambiamento del comportamento dare degli ordini diretti dare delle indicazioni di cambiamento immediato molto spesso sortisce l'effetto contrario cioè l'aggravamento o il rafforzamento di un comportamento deviante perché il comportamento deviante viene considerato come il comportamento di dominanza di potere rispetto all'altro quindi non dobbiamo dare questa idea cioè che chi ha in mano questo comportamento sia più forte degli altri e invece se noi facciamo la repressione diamo questa convinzione che abbiamo bisogno di uccidere qualcuno perché altrimenti è troppo forte questa convinzione non la dobbiamo dare a nessuno la repressione agisce su questo concetto tu sei forte e io ti faccio fuori no lui non è forte noi dobbiamo convincere che l'altro non è forte e per convincere che non è forte dobbiamo dare la consapevolezza su tutto quello che sta facendo tutto quello che sta accadendo non dobbiamo reprimere la repressione diretta non serve purtroppo c'era nei laghi ma nei laghi abbiamo visto che cosa ha sortito quindi le repressioni dirette non hanno pedagogicamente sociologicamente non producono effetti positivi d'accordo grazie professoressa tempesta grazie noi staremmo chissà quanto con lei a parlare di questi argomenti interessantissimi che logicamente soprattutto noi docenti i ragazzi presenti i genitori servono tantissimo tanto tanto e quindi se eventualmente chiunque voglia fare delle altre domande le possono anche rigirare la professoressa di dubbi qualsiasi cosa io poi rigiro e metto in contatto tranquillamente sicuramente no professoressa possiamo farlo assolutamente io ringrazio voi per la pazienza e l'interesse che avete mostrato ho colto davvero tanta tanta attenzione e naturalmente come credo si sia capito anch'io faccio questo mestiere ma lo faccio anche con tanta passione perché veramente credo che i giovani abbiano abbiano la capacità di capirci e quindi dobbiamo sforzarci di farci capire forse dobbiamo fare uno sforzo in più per avvicinarli per tenerli con noi e perché come dicevo prima fare le leggi serve importantissimo ma poi serviamo noi soprattutto direttamente quindi la scuola in prima persona quindi voglio dire ci siamo quando volete scrivermi mi scrivete sono qui ci lavoriamo tanto noi tutti il corpo docente la dirigente e tutta l'intera comunità scolastica creando questa sorta di alleanza tra scuole famiglia alleanza educativa che è fondamentale e condivido perfettamente quello che dice lei soprattutto lavoriamo molto sulla consapevolezza delle proprie azioni di là che formiamo il rispetto consapevolezza perché poi viene fuori il tutto quindi la ringrazio immensamente per la sua brillante per questa relazione molto brillante che ha tenuto con noi e ringrazio tutti i dirigenti che magari ci hanno seguito i docenti i genitori i allumi i rappresentanti di associazioni stampa canale 7 un emittente per la loro presenza ringrazio Elena la nostra cara alluna della classe quartale del liceo e dietro le quinte chi ha lavorato tanto anche il professor Logorotondo il professor Lino Convertini e il tecnico di laboratorio Ronzo Mizz hanno curato tutta la parte informatica nonché la collega P. Angelini per quanto riguarda tutta la parte delle firme per i nostri ragazzi e altro e attendiamo adesso adesso l'altro step nostro come anticipato la preside è il concorso il concorso poi le farò sapere le faremo vedere anche magari le invitiamo proprio alla premiazione va bene grazie mi farà piacere ringrazio anch'io la studentessa è stata bravissima chiarissima grazie a lei grazie a lei io spero di aver interessato soprattutto i giovani perché veramente ci tengo che loro comincino a riflettere su questi comportamenti ci aspettiamo tanto da loro quindi ci crediamo voglio dire va bene buonasera a tutti grazie buona serata grazie anche a voi grazie grazie a tutti